Ma, ascolta, ecco, il fischio della locomotiva, un urlo prolungato, aspro, più di ogni asprezza che neanche un miglio di distanza può ammorbidirlo e farne armonia. E cominciamo dall'inizio, cominciamo dall'America in cui ancora i treni non ci sono, un'America ancora tutta da esplorare, dove i trasporti si fanno sui fiù.